Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ora siamo qui con il quarto episodio di Blossars Andremo a continuare dove eravamo rimasti con tutte quelle vittorie di fila che abbiamo fatto Questa volta però facciamo Facciamo, cosa facciamo ragazzi? Facciamo Colette, 15 nemici dobbiamo fare, quindi ancora abbiamo l'evento a raffaggerno e noi facciamo sopravvivenza singolo Bene ragazzi cominciamo questa sopravvivenza solo che siamo circondati quando vedete Vabbè non lo prendiamo più, meglio non cacciarci già in casini Sarebbe meglio ma è inevitabile Eh vabbè, ora c'è tutti i power Eh no, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare eh? Volevi fottermi? Che volevi? Oh mio Dio Nella scorsa partita non è andato proprio come desideravo però in questo partito dovremmo riparci Questa partita è nostra Ecco Ma che cazzo? No, mancava pottuto Eh 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 sei stato pottuto tuo a questa volta Va bene Eccolo Non lo prenderemo mai l'attimo va bene Terzo posto Va bene così, terzo posto va bene Oh mio Dio Uccidetelo Uccidelo Uccidelo te Uccidelo te Per favore Che ucciso te Vaffanculo Questa volta mi è piaciuto Oh mio Dio Ti è mancato un tanto così Anche per lei eh? Eh sì ma così non vale Vai Vai Sì Sì Siamo fortissimi Hai visto che quando giochiamo bene siamo fortissimi Per poco Vai così Purtroppo dovevamo ritornare al punto di partenza no? Purtroppo Per lui però perché stava per morire Uccidelo 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 Va bene Va bene così Va bene così Noi ce ne andiamo un po' Da qualche altra parte Ma cosa? Wow Uh Siamo fortissimi Una partita incredibile così Mai vista Nooo Sì Come abbiamo vinto Oh my god What? Come abbiamo vinto Va bene Va benissimo per questa partita Mi piaciuta Un sacco Ebbene ragazzi Che è così qua Veniamo da una vittoria incredibile Dobbiamo solo continuare Così Dovremmo continuare così Però io non lo so Che è questo punto Se volete Mi portano il power up Ci è mancato di tanto Così che uccidevamo quello Però Ci ha pensato Lui E noi Uccideremo Proprio lui Corvo di merda Siamo già rimasti A quattro persone Ma va bene Ok Ucciso Dove è finito il corvo? Eccolo Eccolo Volevi nasconderti per me Però Almeno scappa nessuno Eccolo Dove è Eccolo No Non posso crederci Io sono fortissimo Mi sento imbattibile Così E' questa La famosa assimilazione Delle forze Di due combattenti Riunite In un unico corpo E strabiliante Eccolo E abbiamo Vino anche questa Sono invincibile Chiunque se la vedrà con me Sarà sconfitto Sono il più forte Non sono mai stato così potente No 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 Ragazzi adesso Prenderemo a vincere Anche questa Anche se Fare tre su tre Cioè tre vittorie di fila Volevo dire Soprattutto Vittorie pro Ecco qua Non è andata come speravamo Questa partita Però Ci manca il puntanto così Vabbè Alla fine Dai Va bene anche così Abbiamo fatto Due bellissime Quasi di te Ma Bellissime Pro Andiamo a vedere 185 Punti Di Energia Per migliorare I broker Adesso Chi potremmo migliorare Possiamo migliorare Grey Oppure Leon Scusate Corvo Leon Non Miglioriamo proprio Corvo Tanto come poi ragazzi Dobbiamo migliorare Tutti Niente ragazzi Spero che questo Quarto episodio Vi sia piaciuto Anche perché Ci sono state Delle partite Fantastiche E ragazzi Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao Ciao